In questa seconda parte della lezione sulla giornata della memoria andiamo a vedere quando l'episodio, l'evento storico, in cui la memoria si fa coscienza. Vediamo a cosa mi sto riferendo. Mi sto riferendo al processo Eichmann, in cui proprio la memoria si fa coscienza. Questo nome oscuro dal suono germanico non è che ci dica molto. Chi era Adolf Eichmann? Questo uomo qui, un uomo apparentemente normale, insignificante. Tra l'11 aprile e il 15 dicembre del 1961 viene processato a Gerusalemme, è la prima volta che viene utilizzato questo termine, crimini contro l'umanità. È l'ultimo carnefice del Reich che subisce un processo. Vediamo cosa faceva di lavoro questo signore. Adolf Eichmann era il direttore capo del Dipartimento per gli affari ebraici presso la Direzione Generale per la Sicurezza del Reich dal 1940 al 1945. Un burocrate, un semplice passacarte, impiegato in ufficio, che però si occupava degli affari ebraici. Un suo timbro, una sua firma, decideva la destinazione di un vagone merci carico di ebrei verso i campi di concentramento. Questo signore è l'organizzatore e il coordinatore della cosiddetta Endlosung der Judenfrage, cioè soluzione finale della questione ebraica. Cioè lo sterminio sistematico del popolo ebreo, messo in piedi dal nazismo a partire dal 1940. Alla fine della guerra è riuscito con l'inganno a fuggire in Argentina, dove ha vissuto sotto falso nome per circa 15 anni, fino a quando nel 1960 non è stato catturato dai servizi segreti, il Mossad, i servizi segreti israeliani, ed è stato portato con la forza in Israele. C'è stato anche un caso diplomatico su questo rapimento. In realtà l'Argentina voleva che si seguissero le regole per l'estradizione, cioè se uno viene arrestato in territorio straniero, il paese che lo ospita deve concedere l'estradizione, cioè il permesso di farlo espatriare verso il paese che vuole condannarlo. La premiera israeliana Golda Meier, una donna molto in gamba, oppone all'esistenza dell'Argentina il diritto dell'umanità di chiedere giustizia per gli atroci crimini commessi da Adolf Eichmann. Cioè erano così pesanti, così importanti i crimini commessi che la burocrazia in questo caso doveva andare a farsi friggere. Vediamo come si svolge questo processo Eichmann. La difesa di Eichmann puntava sul fatto che il gerarche nazista, l'ufficiale nazista, era soltanto un mero, un semplice, esecutore di ordini impartiti dall'altro e quindi che lui non aveva nessuna responsabilità rispetto allo sterminio degli ebrei nei lager. Si limitava a fare il suo dovere. Ecco, in questo caso l'accusa utilizzò come strumento di demolizione di queste tesi difensive la memoria. In che senso? Per smontare queste tesi furono sentite, ascoltate le testimonianze dirette dei superstiti dei campi di concentramento, che resero delle testimonianze drammatiche al punto che alcuni di loro accusarono malori semplicemente ricordando quello che avevano passato nei campi di concentramento. Quindi per la prima volta in questo caso la memoria diventa coscienza, una coscienza che regola il diritto, che regola la legge. Adolf Eichmann fu condannato all'impiccazione, fu giustiziato quello stesso anno, per crimini contro l'umanità. Attenzione, questa definizione è molto importante, perché nel processo di Norimberga i giudici militari che processarono i gerarchi fascisti dal 1945 al 1946 parlarono di crimini di guerra. Qui si parla di crimini contro l'umanità, un qualcosa che non si era mai sentito nelle altre tribunali. E' una definizione che è nata proprio grazie all'utilizzo della memoria come strumento di accusa. Da questo momento la memoria dell'olocausto si è trasformata in coscienza per distinguere un crimine contro l'umanità. Ecco perché dobbiamo celebrare la ricorrenza della giornata della memoria. Non soltanto per ricordare che tante persone sono morte ingiustamente, ma perché la memoria, ma la storia in generale, deve avere questa funzione di ammonimento e di regolare le nostre coscienze, appunto. Seguì questo processo la giornalista tedesca naturalizzata americana, giornalista e filosofa tedesca naturalizzata americana, Annan Arendt, che intitolò il suo resoconto del processo per la testata giornalistica statunitense New Yorker con un titolo veramente molto potente, La banalità del male. La banalità del male vuol dire che anche un semplice impiegato passacarte come Eichmann poteva essere un carnefice quando non si fermava a riflettere sulle conseguenze del suo lavoro, sulle conseguenze delle sue azioni. Quindi il male non si nasconte soltanto dietro corna, puntite, zoccoli da capro e odore di zolfo. Non è qualcosa di demoniaco, commesso da esseri malefici e invincibili. Anche un semplice impiegato come Eichmann era in grado di commettere il male. Una persona banale come Eichmann è capace di causare dolore, sofferenza e disperazione in migliaia, milioni di persone. Chiudiamo questa lezione sulla giornata della memoria con una frase di Samuel Modiano, detto Sami, Cavaliere della Repubblica, insignito da questo riconoscimento nel 2020 dal nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, che dice, a proposito del fatto di tenere sempre gli occhi aperti nei confronti dell'odio, riprendendo i versi di una poesia, di una poesia polacca scampata allo sterminio, di origine ebraica, dice, non è vero che l'odio è cieco, ha la vista molto acuta, quella di un cecchino, quindi sa benissimo dove colpire, e se si addormenta il suo sonno non è mai eterno, ritorna. La memoria ci deve mettere in guardia proprio nei confronti del ritorno dell'odio. E l'odio non è una cosa legata ad un contesto di guerra, ad una situazione politica come il fascismo, come il nazismo. L'odio è qualcosa che tutti noi possiamo essere in grado di liberare quando cancelliamo la nostra memoria. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.